Con Campi d'ostinato amore pubblicato dalla nave di Teseo Editore, Umberto Piersanti si ha giudicato la ventesima edizione del premio letterario internazionale L'Aquila Biperbanca intitolato All'audomia Bonanni. Carmen Yanes Hidalgo, poetessa cilena che ha condiviso con Luis Sepulveda 50 anni di letteratura e vita, è stata l'ospite d'onore della cerimonia ospitata dall'auditorium del Parco del Castello dell'Aquila. Erano presenti anche gli altri due poeti finalisti Alessandro Fo e Milo De Angelis. La poesia è una strada per affrontare la vita e per quanto dura sia è comunque bellissima, ha detto Umberto Piersanti. Lo ha intervistato la collega Daniela Rosone. Cosa c'è in Campi d'ostinato amore? C'è la natura, la memoria, il dolore, in particolare è quello per mio figlio autistico, la natura. Natura, essere poeta di natura non significa parlare di un albero, ma fare della natura un soggetto fondamentale, non uno sfondo. Sono nato in un tempo remoto, 26 febbraio del 41, ho fatto a tempo a conoscere l'ultima civiltà contadina. Io non sono Olmi o Pasolini che la contrappongono come civiltà autentica la nostra. Io dico solo che è totalmente finita. È tutto ciò che è finito. Non può che coinvolgerci e commuoverci. Lei già era venuta all'Aquila prima del terremoto. Come l'ha trovata? E che analogie ci sono anche nella sua vita, nella poesia? Lei ha sofferto anche l'esilio, la sofferenza, insomma, gli aquilani che hanno dovuto abbandonare i loro casi ormai tanti anni fa. Si distrugge tutta, gran parte del Cile, sempre che hai che ricostruirlo nuovamente. Quando io vine all'Aquila? Sia il Cile che l'Aquila sono effettivamente sismiche. Ogni poco tempo, quasi ogni dieci anni vuole essere Cile distrutta da qualche terremoto. Effettivamente la prima volta che sono venuta all'Aquila venne assieme a mio marito Luis Sepulveda e ricordo che ci fece una bella impressione perché era effettivamente una bella città. Poi nell'evento tragico del 2009 ho visto come effettivamente la città soffriva, ma vederla adesso in piena ricostruzione con le persone che sono in grado appunto di alzarsi, di riprendersi, bambini, donne che effettivamente riescono a fare qualcosa, significa di conseguenza che si può fare perché siamo in grado di farlo, abbiamo le forze per farlo. Biperbanca sostiene da anni questo progetto culturale, esprimendo la sua vocazione di banca vicina alla cultura. In tutte le sue espressioni ha evidenziato il responsabile della direzione regionale, Giuseppe Marco Litta. Biperbanca poi consolida la sua vocazione di banca vicina alla cultura su tutto il territorio nazionale. All'Aquila in particolare abbiamo avuto l'opportunità di essere partner di manifestazioni molto importanti, una delle quali è quella a cui abbiamo assistito, il premio internazionale della poesia intitolato Allaudonia Bonanni.